Lanciano Perugia è sfida ad alta quota al Guido Biondi che risponde presente all'appuntamento tra Frentani e Umbri. Finisce in parità, un gol a testa nella ripresa ma a fare la gara è solo ed esclusivamente il Lanciano di Roberto D'Aversa che colleziona una decina di palle gol nitide ma paradossalmente è costretto a colmare lo svantaggio su calcio di rigore, confezionato e realizzato da Davide Leonardo Gatto, il migliore in campo. D'Aversa riconferma in blocco gli stessi 11 vittoriosi contro il Cittadella e contro il Vicenza ma questa volta la squadra titolare non vincerà ma gli regalerà una serie di palle gol pulite piuttosto clamorose. Fischia Pezzuto di Lecce che estrarrà al termine della contesa 8 gialli. Il primo tempo è sinonimo di monologo, monologo rosso-nero scritto, recitato e diretto dalla squadra di D'Aversa. Se si accettuano una conclusione di Falcinelli dalla distanza e un'uscita bassa di Nicolas su Parigini i primi 45 minuti di gioco sono solo ed esclusivamente Virtussini. Tonica la squadra di D'Aversa che dopo una manciata di secondi sfodera il primo acuto griffato Gatto che ben servito da Mammarella impatta di testa il palo ma il palo di Gatto è solo il bigliettino da visita del pomeriggio frentano. La Virtus gioca e colleziona occasionissime da gol tante diverse ma gli esiti non saranno mai efficaci in fatto di realizzazioni. Le azioni pericolose trovano quasi sempre la genesi nel sinistro di Carlo Mammarella. Angolo del capitano e colpo di testa di Troest ma la sfera non ne vuol sapere di entrare in porta. Ancora Lanciano, ancora Tiam che fa tutto bene, tiro compreso ma provvedelle provvidenziale ad alzare la sfera sulla trasversale. Insomma nel primo tempo il Lanciano fa quello che vuole ma non riesce in quello che deve e serve andare in rete. Camplone cambia l'attacco e alla prima occasione passa. Palla per Parigini sull'out di sinistra che fa tutto bene e offre su un piatto d'oro il gol del vantaggio di Perea. Il Lanciano non ci sta e al ventiquattresimo trova il pari. Provvedelle esce in modo scordinato su Gatto e lo stand. Rigore sacrosanto. Dell'esecuzione se ne occupa Gatto che spiazza l'estremo difensore del grifo e l'esultanza. È tutta per il portiere della regina. Suo compagno di vita Daniel Leone. Il Lanciano non abbassa la pressione. Il sempreverde Vastola. Prova di potenza. Poi è il turno di Cerri in due occasioni. Nella seconda tocca anche la parte alta della traversa. Passano i minuti. Non cambia la trama. Insomma bello bellissimo il Lanciano che è i punti. Avrebbe certamente meritato l'intera posta in palio.